Quello è stato un momento in cui ho capito che questa scelta era più forte e più motivata di quanto non avessi pensato fino a quel momento. Ho scelto di fare questo lavoro un po' per casa perché io sono stata per anni un'educatrice professionale, lavoravo nelle comunità. Io quando lavoro prego, io quando mangio sto meditando sull'infinito. Io vivo in una residenza occupata che si chiama Verti15 occupata. Ciao. 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 Ciao.